Vieni Dario, tutti quanti venite, tutti, 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 tutti in fila, tutti in fila, schierate tutti in fila, perfetto, un po' di donne anche, al centro, esatto, mischiate le carte, ma che schifo, ma com'è che ho fatto per rimanere vicino a me, ma è sempre donna e donna, donna e donna, donna e donna, donna e donna, no, qua, perfetto, perfetto, vado qua, Gli sono andato benissimo, va bene così Io la fisserei Scusa eh Ah perché tu hai due donne Ok, non si può toccare la palla con la mano Se non si ricomincia Ragazzi non potete toccare Ti tocca Ti tocca Lo puoi toccare tutto tranne che la palla Prego Mi vuole baciarmi Mi vuole baciarmi fatto così Deve darti la palla E prenderla Non la far cadere Non la far cadere E' male E' male E' perché di qua c'è il micrimofono Eeeh Piaccio Buona cadere A me però Attenzione E mo tocca a me, scusate No Oh Bravo 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 Non deve cadere Non deve cadere Se cade la palla Se cade la palla La prendi da Biagio Izzo E non più da Giastina Oshka non fa cadere la palla Per nessuna Non spunge Noi abbiamo fatto sempre marito e moglie E' vero E' vero Però Ci passiamo la palla Vai Ce la puoi fare? Sei? Sei? Senta Trinci Brava Brava Amor mio Grazie Vai Bravo 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 E' un po' per la E una palla E una palla arrivo Ma siete troppo bravi, troppo bravi, troppo bravi, cambio, cambio, palla piccola per palla grande, no, no, ora prendo tre del pubblico, avanti, 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 chi vuole passare la palla a Biagio Izzo, avanti, chi vuole passare la palla a Biagio Izzo, venga signora, venga, venga, Lei vieni, 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 vediamo chi, vediamo chi, chi vuole venire, chi vuole, passano tutti questi belli ragazzi, perfetto, venga, venga Panterona, venga Depardata, venga, qui, ah, la metto guardi, tra Max e Dario Bandiera, ma a noi, ma un bel ragazzo, buonasera, adesso aspetta che, ha chiesto un bel ragazzo, vuoi un bel ragazzo, un bel ragazzo, avanti, guarda, questo, questo, vieni che c'ha il ciuffo perfetto per questo gioco, Allora, è qua, vicino tra te, spostatevi tutti in là, perfetto, fermi, 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 il nome? Salvatore, allora, Salvatore, Daniela, Daniela, Maurizio, Maurizio, Viaggio, Anna, Anna, Anna è contenta di stare tra Maurizio e Viaggio, ma con Casa Grande e Viaggio Izzo non c'è niente di più al mondo per voi, Grazie, guarda che soddisfazione, è mia zia, è mia zia, è mia zia, allora, attenzione, attenzione, parto, parto da Tosca, esatto, quindi, dove me la devo mettere? Gambe, 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 se cade si ricomincia, va bene, vai Tosca, vai, salvatore, vai Salvatore, vai Tosca, non lo farai cadere, vai, bravo Salvatore, attenzione, attizione, no, di nuovo, di nuovo Tosca, vai Tosca, vai, Salvatore, quella bella presa, quella bella presa forte, forte e muscoloso. Si affeziona, poi c'è la trawai, eh? Eh, vado, eh, lascio, lascio. Bravo, Salvatore, va bene. Salvatore, lascio, lascio. Bravo. Mi raccomando, non la far cadere adesso. Non la far cadere. Tienila lì. Eh, non posso. Un po' più, spingi un po' di più. Eh, dove? Ok, no. Ok, ok, ferma, ferma, ferma. Fai quello che ti dice Dario, lui è esperto. Allora, si spogli intanto. Spoglia tutto, tutto. Mi guardi. Non scherzo. Bacio con la lingua. Allora. Mi accarezzi. Allora. Vai, spingila ancora di più. Te lo spingo, vai. Ok. Maurizio. Non mi sto trovando bene. Hai preso? No. Eccolo. Preso? Vai. Grazie mia. Vai. Ora, mi raccomando. Mi raccomando. Mi raccomando. Mi raccomando. Mi raccomando. Abba. Ma non devo abbracciarmi. perché c'è il marito della signora, no? No, no. Allora siamo apposti, ah? Ma... Ma mamma mia, come rire? Ma che... Ma che rire così? Eh? Eh? Ma rire, rire. Ma guarda. Piggia a balla, piggia a balla. Ma lo stai ridendo? No, no, è seria. Piggia a balla, piggia a balla. Isto. Echt? Echt? C'ha vinto? Fer го tredito? Echt? Echt? solita la mano. Ebbe. Esperto! Viaggio, attenti che c'è una mano a voce! Viaggio, mi raccomando! Aspetta! 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 Viaggio! Aspetta! Presa! No! Aspetta! Ok! 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 Aspetta! Vai! 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 Da Giacir! Da Giacir! Da Giacir! Da Giacir! Va bene! Stanzione! Tutto è possibile! Grazie, grazie! Grazie! Grazie!